bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xxi e oggi ragazzi voglio darvi delle belle novità belle sugose per quanto riguarda fortnite per android perché lo so ragazzi molti molti di voi come me d'altronde hanno un dispositivo android come ben sappiamo ragazzi qualche giorno fa è stato rilasciato fortnite mobile per ios ed è stato un successo incredibile ragazzi fortnite mobile è andato in cima alle classifiche in 58 paesi nel mondo si ricorda ragazzi che è disponibile solo su invito quindi immaginate cosa sarebbe successo se gli sviluppatori di epic games avessero rilasciato fortnite per ios per tutti stiamo parlando ragazzi di un videogioco uscito per dispositivi mobili che ha guadagnato qualcosa come 1,5 milioni di dollari dal rilascio su mobile una cosa veramente allucinante quello che però siamo qua per ascoltare ragazzi e quando quando questo fortnite verrà rilasciato su android allora innanzitutto a belli calmi belli seduti non abbiate fretta ci sono delle parole che sono state dette esattamente da nick chester che è il product manager di fortnite che ha sostenuto durante una delle sue ultime interviste di uno o due giorni fa ha detto che c'è una vasta gamma di dispositivi android e quindi vogliamo che il nostro videogioco arrivi a tutti gli utenti nel migliore dei modi questo vuol dire ragazzi che loro stanno puntando ancora tantissimo a sviluppare la versione per ios ios chiamatelo come volete ma stanno anche lavorando e si parla di 700 persone che stanno lavorando nel team di epic games allo sviluppo di android che possa essere supportato dalla maggior parte di dispositivi ci viene anche detto un piccolo spoiler ragazzi che purtroppo non ci darà una gioia ma che ci dà delle informazioni molto molto dettagliate e che si avvicinano proprio alla data di rilascio allora sappiamo ragazzi non so se lo sapete che android fra pochissimi mesi avrà un grande aggiornamento molto molto pesante nel suo sistema operativo cosa vuol dire che verrà rilasciato il sistema operativo android p chiamato anche diciamo più amichevolmente android pistacchio ice cream non sappiamo bene perché questi nomi comunque abbiamo il kit kat abbiamo tutti gli altri questo sistema operativo in realtà ragazzi è già disponibile nell'anteprima che hanno rilasciato gli sviluppatori per alcuni dispositivi che sono lo smartphone pixel lo smartphone pixel xl lo smartphone pixel 2 e il pixel 2 xl stiamo parlando ovviamente di dispositivi di google quello che vogliamo sapere è che l'anteprima è appena stata fatta ma il rilascio globale di android p arriverà purtroppo solamente durante l'evento che farà google che si terrà dal 15 al 18 maggio 2018 cosa vuol dire questo ragazzi potrebbe essere seguito dopo questo aggiornamento da una versione di fortnite mobile per android come vi dicevo gli sviluppatori di epic games credo e non sono io che lo credo ragazzi ma sono quelli che girano ronzano intorno alle novità proprio più intense proprio più vicino agli sviluppatori che dicono crediamo che fortnite mobile sia meglio farlo uscire per un dispositivo che abbia il sistema operativo android p piuttosto che farlo uscire su una saccata di dispositivi che hanno android che sono usciti e che stanno ancora uscendo tra l'altro ragazzi è il momento sarebbe il momento ideale per epic games lasciarlo riuscire per due motivi motivo numero uno avrebbero almeno due mesi per continuare a sviluppare fortnite su ios e quindi portarlo finalmente a una versione finale in secondo luogo potrebbero quindi lavorare meglio sul sulla versione di fortnite mobile per android e rilasciarla appunto su questi dispositivi su questo nuovo sistema operativo che sembrerebbe poi potrà essere installato aggiornando appunto i nostri sistemi operativi che abbiamo sui nostri dispositivi diciamo ragazzi che fecondo fonti ufficiali che sono vicini a epic games ma epic games ancora non ha rilasciato nessuna dichiarazione il rilascio di android su android di fortnite mobile potrebbe arrivare tra giugno e luglio 2018 questo ragazzi è tutto ciò che sono riuscito a scoprire per voi e che vi spero possa essere piaciuto in modo che molti di voi si siano diciamo tolti un po di dubbi su quando finalmente arriverà questo fortnite anche per chi gioca con android beh ragazzi io vi ringrazio davvero tantissimo per avere guardato questo video vi ricordo di rimanere aggiornati sul mio canale di tutto quello che riguarda fortnite per computer console e fortnite mobile noi ci vediamo in live ciao 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 No one will go